Ci sono sicuramente fatti specie drittuose che incitono, questo non lo dobbiamo nascondere, non ci dobbiamo nascondere dietro un dito e quindi che creano sicuramente stupore e incertezza. Ma c'è anche una buona parte di percezione dell'insicurezza basata su un non concreto riferimento. È il questore di Arezzo a fare il punto della situazione in tema di sicurezza in città ed in provincia. Lunedì mattina si è riunito il Comitato Provinciale per la Sicurezza Pubblica, richiesto dal Sindaco Ghinelli e convocato dal Prefetto Vaccaro. Sono state così individuate le direttive di pubblica sicurezza da attuare per i prossimi mesi, un lavoro che chiamerà in causa tutte le forze di polizia e tutte quelle amministrative. Quello che già è emerso ieri e che quindi io riconfermo è che comunque notiamo una riduzione dei reati in tutto Arezzo e provincia che varia dal 10 al 25% di ogni singola fattispecie drittuosa. Quindi vuol dire che le misure, sia le attività programmatiche già prese in sede del Comitato Provinciale all'Ordine della Sicurezza Pubblica, nonché le misure tecniche stabilite in sede di tavolo tecnico del questore, hanno cominciato a dare i primi risultati. Questo non ci deve bastare, dobbiamo continuare ad incidere sul territorio, cercando innanzitutto di capire bene le problematiche che stanno alla base di questa percezione di sicurezza dei cittadini per andarle a contrastarle, a reprimerle e dare maggiore fiducia e sicurezza. Numeri alla mano, i reati sono calati sia nel territorio comunale che in quello provinciale. In aumento invece gli arresti, cresciuti del 25% e le denunce più 19%. Anche a Saione, quartiera al centro delle cronache recenti, è stata registrata una riduzione degli eventi criminosi. I reati rispetto all'anno precedente sono infatti calati del 10%. Questo non ci deve farci entusiasmare o far gridare alle vittorie. No, è un fatto statistico, lo rileviamo, lo diciamo ed è uno stimolo. Anzi, il decreto va affrontato con tutte le misure che sono previste e il contrasto specifico alle fatti specie delittose va affrontato con gli strumenti giusti. A ognuno il suo strumento. Poi ci possono essere aree di confluenza, però non è un automatismo che l'uno crea l'altro. Certo che esempi illustri ci dimostrano che laddove tutto è organizzato, tutto è pulito, l'illuminazione pubblica funziona, dove tutto è, si creano condizioni minori per la consumazione dei reati.